Un fine settimana pesante sul fronte degli incendi a Sciacca con le zone periferiche della città interessate dalle fiamme che hanno le ambito, le abitazioni con conseguente preoccupazione per i residenti. Ieri pomeriggio è entrato in azione anche un elicottero della protezione civile per riuscire a domare il vasto incendio che ha interessato la contrada a Cava di Lauro e che ha impegnato per ore i vigili del fuoco del locale di staccamento. Diversi lanci effettuati per arrivare a spegnere le fiamme che alimentate dal forte vento si sono sviluppate nella zona generando paura tra i residenti. La stessa paura vissuta sabato pomeriggio dalle famiglie di Contrada Cutrone con le fiamme altissime che hanno accerciato diverse abitazioni della zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Sciacca, anche gli uomini del corpo forestale con le operazioni di spegnimento che sono state piuttosto complicate. Anche i residenti hanno collaborato per quel che potevano per tenere le fiamme lontane dalle loro abitazioni. Sono i primi due vasti incendi della stagione, di natura dolosa indubbiamente, ma che ripropongono anche il tema della necessità di effettuare immediatamente tutte quelle opere di prevenzione. Ci riferiamo alla pulizia delle aree incolte in base dalle sterpaglie di privati ma anche di proprietà pubblica che in questo periodo dovrebbe già essere stata effettuata soprattutto nelle aree dove insistono abitazioni. E invece non è così nelle Contrade come a ridosso del centro abitato. Proprio la scorsa settimana è stato siglato il protocollo di intesa presso la procura della Repubblica di Sciacca alla presenza delle forze dell'ordine e dei sindaci del territorio. La procura fin dal 2016 ha istituito una banca dati contenente informazioni relative alle denunce per incendi boschivi allo scopo di meglio fronteggiare il diffuso fenomeno ed espletare una più incisiva attività di monitoraggio. Con il protocollo siglato i comuni sono stati chiamati a fare la propria parte nell'azione di prevenzione degli incendi ma anche nel censimento tramite apposito catastro da aggiornare annualmente delle aree distrutte dalle fiamme.